Ciao a tutti, durante la gravidanza ho deciso di mantenermi in forma facendo qualche esercizio giornaliero per non trascurare comunque il mio fisico. Per questo mi sono rivolta a mio padre che è personal trainer quindi meglio di non lo potrebbe sapere nessuno. Adesso insieme a lui vi farò vedere qualche esercizio da fare senza andare in palestra. Allora vi mostrerò il primo esercizio che è un esercizio fondamentale e completo per tonificare la parte inferiore del corpo, in questo caso gambe e gluti. Questo è il classico squat facilitato con l'appoggio e serve proprio per tonificare gluti femorali e colpacci. Il secondo esercizio serve per tonificare sempre la parte dei gluti esterno coscia. Ci appoggiamo leggermente su un fianco facendo un pochettino di pressione, ok, sul punto di appoggio e portiamo la gamba verso l'esterno. Possiamo appoggiare la mano lungo il fianco e creare un piccolo attrito dove possiamo lavorare con maggiore difficoltà. Adesso svolgiamo il terzo esercizio che per voi future mamme penso che è il più fondamentale. E quindi stiamo parlando della zona glutei, ecco, guardate, è molto facile, ci appoggiamo facendo sempre pressione e portiamo la gamba tesa su fino a che possiamo, svolgendo una pressione inferiore sui glutei. Pregate il ginocchio e il stress. Come avete visto questi sono alcuni esercizi facili da poter fare a casa anche con il pancione. Spero vi siano piaciuti. Spero vi siano piaciuti.